Bruciò la sua villetta che gli era stata pignorata e messa all'asta. Per lui arriva ora una condanna a tre anni e mezzo, identica pena per il suo complice. La prima sezione penale del Tribunale di Milano, presieduta dal giudice Andrea Ghinetti, ha condannato due persone italiane di 47 e 43 anni, rispettivamente residenti a Bareggio e a Sedriano, nel Magentino, a tre anni e sei mesi di reclusione perché riconosciute responsabili dell'incendio doloso di un'abitazione privata a Bareggio, appiccato nella notte di San Lorenzo del 2018. Tra venerdì 10 e sabato 11 agosto di quell'anno, infatti, un rogo partito dal tetto aveva gravemente danneggiato una villetta su due piani. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con sette mezzi. L'incendio era stato domato dopo oltre cinque ore di lavoro, all'alba del sabato. Fortunatamente non ci furono né feriti né intossicati perché l'edificio era vuoto. Le forze dell'ordine ipotizzarono da subito la natura dolosa del rogo. Nel corso delle complesse indagini, dirette dal sostituto procuratore della Repubblica Piero Basilone e svolte dai militari della Compagnia dei Carabinieri di Abbiategrasso, è stata compiutamente accertata la natura ritorsiva del crimine, cioè che l'ex proprietario abbia incendiato la villetta perché quest'ultima era stata messa all'asta da terzi un mese prima a seguito del pignoramento. Nel febbraio 2019 i due cittadini oggi condannati furono arrestati dai Carabinieri di Abbiategrasso e emessi agli arresti domiciliari. I due sono stati inoltre condannati al risarcimento della parte offesa per il danno che hanno provocato e andrà liquidato pagando subito una somma di 150 mila euro oltre alle spese processuali.